Amici sportivi buonasera, lo so, lo so, non sono vestito né in ambito calcistico né mi trovo in un luogo calcistico Infatti ci troviamo a Miseno su una spiaggia, perché ci troviamo a Miseno? Perché andremo a scoprire le ragazze Cosa ne pensano dei calciatori del TAM e dei ragazzi che le lasciano a casa per una partita di calcetto Andiamo a vedere Ciao 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 Scusa, volevo sapere, se il tuo ragazzo ti lasciasse a casa da sola per andare a giocare a calcetto, cosa penseresti di lui? Lo lascerei a casa, da solo Che ha fatto bene, probabilmente anche organizzare una bella partita di valore Eh, tranquillo, non mi interesserebbe più di tanto, ogni tanto fa bene la coppia a dividersi, poi ognuno ha i propri spazi, no? E se invece per Ripicca volessi fargli le corna con un calciatore di Serie A, chi sceglieresti? Francesco Dotti Sì Amsic E del TAM Sull'Utrone Marco Lucci Salvatore Iannuzzi Madonna Egnuno